ok, ora ho il gioco non faccio il mondo dai 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 passapassa non vado che c'è per me italiano è più fatto di voi che cercate da fare no veramente il gioco l'ho fatto io non è vero minchia posso ne prendo la pasta no, i tuoi era tutto calcolato vedi vedi no 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 lascerò 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 che vieni a fare sto mangiando il gelato proprio miglioro, proprio miglioro, proprio miglioro guarda come cazzo sono guarda, guarda, guarda è via ma bambini più veloce di noi che cazzo ma li ha figlio per questo, giochietto vai, vai sono mi attacco, vai, vai guarda, guarda vai, vai, vai passa dietro no ma guarda che vai non v però vabbè ne parlo, vai, vabbè ne parlo, vabbè ne parlo... c'è la teglia c'è la teglia c'è la teglia la teglia la teglia cazzo ecco la scelta il sito ciao ciao a teglia la città per un'altra città la era sono libero sono libero percorso 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 camminato ok spazio si passa eccolo bella che va parto rubino su, su, ce l'ho dietro su, grazie aaaah go no no e portere poco vai 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 no 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 dai 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 come fai andare più veloce chi tu no gol gol no ho sbagliato riuscirlo guarda eh dai �� testa cartetaria si il comune ciao il percorso la parola la parola porto 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 c'è se la cazzo a no scemo ma c'è un po' era il colore c'è bravo guarda che cosa c'è la data stavate che è stata torna comando a poco no euro dietro scema tira bravo che cazzo fa ufff tolis ma che scema da un dato a la stessa la stessa ok ma la stessa la stessa la stessa c vabbè affronta vabbè affronta ballo 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 diceva ben forte spara ben forte scivara ben forte perdiamo ecco no ben forte scivara perdiamo che golle dai dai il punto della vita è che cazzo si preoccupateva che mi chiamava porco cara no no mamma mia no ma quanto via no no non mi preoccupare nooo nooo che vincolo che gol che gol che gol non c'è storia nooo dai li facciamo dai dai 10,9 all'ultimo potete andare super gol, difende palla eh vai scusate era l'emozione scusate l'emozione capolla tira porca giuda tira non mi tira ci va vai in porta sei un danno questa è l'esame tira 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 non tira 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 нал tira tira la 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 il 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 la la guarda guarda sto libero, sto libero sei, sono libero in porto, non è libero in porto lascia, 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 lascia tira, tira, vado a cagare, va, va non tira che è? dai, ne passi, sono libero no lo so, sono la torre che so Yeah perciuso perciuso si oh ma tu ti da 4 è, è una tenta sia, un'intento guarda podere ah ma che è quello che ha pesato, non ho ma che è questo ma che è questo che so, non ho no no dio la pace lascia 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 c'è la cazzo la dimensione la cara chico demasi en este montaje la la class dal in mi ha detto la l'acqua no un po acqua per questo l'italiano che cazzo ma non te lo faremo l'arbitra per favore devi partire devi partire era caccolato ce l'ho si guarda italiano chi è? guarda cosa 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 è arrivato James c a ora c no io voglio sapere la velocità la velocità no tu lo so bisogna fare cosa c 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 no 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 dai trovo di rubini semplicemente io ho pazzo e vai da te ne roppe i coglioni poi jenks poi jenks tira jenks tira tira rubini rubini jenks jenks tira chi cazzo va or il 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 comunque il il i Grazie a tutti.